Musei aperti in via straordinaria per le festività a Napoli e in Campania. Domenica 1 gennaio 2023 torna la Domenica al Museo. L'iniziativa cura il Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito in numerosissimi luoghi della cultura. Un'iniziativa importante secondo il Ministro Gennaro San Giuliano che dichiara in giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l'opportunità di godere della bellezza e del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del Ministero impegnato nel garantire queste avverture straordinarie in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente. Quest'anno nella prima domenica gratuita dell'anno i luoghi della cultura aperti saranno tantissimi in tutta Italia dal Colosseo alla Pinacoteca di Brera, dalla Certosa di Pavia alla Regia di Caserta e ai parchi di Pompei ed Ercolano. L'iniziativa ha riscosso notevole successo nel corso del 2022 registrando circa 1.900.000 accessi in tutta Italia. Tra le regioni dall'affluenza più significativa si è collocata proprio la Campania con il Parco archeologico di Pompei che ha raggiunto più volte il podio nazionale. Anche la Regia di Caserta e Palazzo Reale di Napoli hanno raggiunto numeri record e sono pronti a scriverne di nuovi.